Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Chiara Astrua, sono un medico della dermatologia del San Lazzaro di Torino e vi faccio soltanto vedere, vi racconto soltanto poche cose che sono forse le più salienti e poi magari do spazio a voi per farmi qualche domanda inerente alle manifestazioni cutanee. Prima di tutto, in questa diapositiva abbiamo un po' raggruppato tutte quelle che sono le malattie mieloproliferative ma ci concentriamo per quanto riguarda la policitemia vera sulla più importante manifestazione cutanea legata a questa patologia che è il prurito. Il prurito, forse voi lo saprete ancora meglio di me, è la condizione che coinvolge, come dice la letteratura, più del 40% delle persone che hanno questa patologia ed è un prurito dovuto a un aumento dell'ematocrito e dovuto a una maggiore liberazione di istamina da quelle cellule che si chiamano mastociti. È un prurito che viene per lo più dopo il contatto con acqua e si chiama prurito acquagenico. Le altre manifestazioni sono invece manifestazioni secondarie su cui indugerei. Diciamo che il prurito è una sintomatologia frequente ma così come è frequente è anche difficile a volte da curare e da trattare perfettamente. Ci sono tutta una serie di rimedi che possono essere trovati prima dalle proprie norme comportamentali e anche successivamente attraverso alcuni veri e propri trattamenti. Siccome è un prurito che insorge dopo il contatto con l'acqua è molto importante utilizzare alcuni incorgimenti, non usare mai l'acqua molto calda. è molto importante anche eventualmente associare nei casi più significativi un trattamento antistaminico. I restanti effetti sulla pelle possono essere anche un po' leniti da una terapia emolliente quindi dall'utilizzo frequente di una crema idratante anche subito dopo la doccia e unitamente anche all'utilizzo di spugne per tamponare anche durante l'asciugatura. Invece i restanti effetti collaterali sono per lo più legati ai trattamenti che vengono somministrate per questa patologia. L'oncocarbide è il farmaco che forse voi conoscete un pochettino meglio e che presenta la maggior parte degli effetti collaterali cutanei. Infatti si è visto che una percentuale di pazienti che è piccolina, solo il 3-5%, sviluppa alcune ulcere che sono delle vere perdite di sostanza alle gambe, agli arti inferiori che possono essere molto fastidiose e aver fatica a guarire. Non sono l'unica sede dove queste ulcere si possono manifestare perché alcune volte, anche se in piccola percentuale, possono anche verificarsi agli arti inferiori nella bocca, al cavorale. Oppure, ma è molto 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 raro, anche nel tratto gastroenterico. È molto importante non sottovalutare questa problematica anche perché è riferire subito anche al vostro medico che vi segue il fatto che siano in sorte, anche perché più trascurate più sono difficoltose da portare a guarigione. Di strategie ce ne sono tante e le medicazioni in questione sono moltissime e si adeguano sul caso specifico. Per quanto riguarda anche le afte al cavorale, anche qui le preparazioni che si possono utilizzare sono molteplici e dall'aloe ad altri lenitivi possono essere utilizzati anche con costanza durante il trattamento. C'è poi tutto un altro capitolo negli effetti collaterali cutanei che sono quelli legati un po' all'esposizione solare. Diciamo che i pazienti che prendono questo farmaco, l'oncocarbide, hanno una difficoltà nel riparare il DNA e di conseguenza, se noi esponiamo la cute, soprattutto quella delle persone che hanno gli occhi più chiari, i capelli più chiari, la pelle più chiara ai raggi solari, abbiamo un danno e siccome questi pazienti hanno una difficoltà a riparare questo danno, vengono a crearsi delle vere lesioni di natura precancerosa che è bene anche qua non sottovalutare e queste si chiamano keratosi attiniche. Le sedi preferenziali di queste lesioni sono quelle della cute esposta, quindi il volto, il capo, le mani, le parti che normalmente più stanno esposte al sole. Anche in questo caso le strategie terapeutiche sono molte, si può andare da dei prodotti topici che possono essere applicati con continuità oppure anche solo per piccoli periodi, mi viene in mente l'igienolome butato, oppure anche ad esempio si possono fare delle sedute di crioterapia con l'azotto liquido per eliminarle. In caso di multiple lesioni anche la terapia fotodinamica è un'opzione valida e consiste nell'applicare una sostanza fotosensibilizzante sulle lesioni e dopodiché irradiarle con una luce dello spettro infrarosso. In rari e rari casi anche una perdita di capelli può essere evidenziata nei pazienti che fanno il trattamento con l'oncocarbide. In questo caso diciamo che il maggior giovamento lo si ottiene con dei preparati topici a base di cortisonico, un cortisonico però ha un pochino, ha un'elevata potenza. e inoltre alcuni manifestano delle zone più scure a livello delle mani, delle unghie, dei piedi in queste sedi qua. In quest'altra diapositiva invece ho provato a mettere insieme un pochino di quelle che sono le domande che più frequentemente a noi dermatologi vengono rivolte. La prima fra tutto è capire se è la malattia che porta a una determinata lesione cutanea o se sia appunto il trattamento che viene fatto. A questa domanda credo di avere risposto un pochettino pochi minuti fa. Diciamo che in questa malattia oltre al rossore del volto e al prurito pochi altri sono i sintomi cutanei. Il resto, anche se non sono manifestazioni così frequenti, sono per lo più legate alle terapie e possono essere appunto riassunte in quegli effetti collaterali che prima ho elencato. Nessuna però di queste manifestazioni cutanea è contagiosa o infettiva anche se c'è da tenere presente che delle lesioni come le ulcere che sono proprio delle perdite di sostanza, dei buchi della pelle possono essere una base per avere una più tendenza all'infezione, una porta di ingresso anche per qualche patogeno. Quindi non sono contagiose, non sono infettive. A volte è vero che però tutti i trattamenti possono dare alcune manifestazioni cutanee, quindi anche di natura allergica e in questo caso, anche se non è una manifestazione frequente, non vanno sottovalutate e subito riportate al medico che vi segue. Lo stress, anche se sempre è un grande incriminato, in questo caso forse può essere lasciato da parte. Diciamo che nessuna di queste lesioni, fatta eccezione forse per la perdita un po' dei capelli, può avere una relazione con lo stress, per quanto già il seguire una malattia nel suo decorso possa essere emotivamente importante per il paziente. Per le sedi abbiamo parlato che le keratosiattini che si manifestano per lo più nelle sedi esposte, mentre le ulcerette di cui abbiamo parlato sono per lo più localizzate alle gambe. Queste perché sono una sede più fragile, dove c'è più stasi e dove anche i traumatismi sono più facili. La risoluzione dipende un po'. A volte la risoluzione delle ulcere può essere lunga e a volte è anche necessario magari momentaneamente interrompere il trattamento in atto. Il prurito spesso invece si protrae nel tempo ed è una cosa che bisogna imparare a gestire un po' anche a convivere. Per quanto riguarda invece le keratosiattiniche, con il trattamento tendenzialmente si risolvono anche se un soggetto predisposto tende essenzialmente a riproporle nel tempo proprio continuando anche il trattamento ematologico in atto. L'esposizione solare è possibile sì con moderazione nel senso che vanno evitate le ore più calde sicuramente come buon senso e in particolare è molto importante usare degli strumenti protettivi ossia utilizzare magari degli abbigliamenti consoni e anche utilizzare dei filtri solari a protezione totale che è quella che noi diciamo 50 a più. Il prurito è la cosa più difficile tra tutte con cui bisogna fare i conti è la più difficile da risolvere varia un po' caso per caso come prima ho già ripetuto ci sono delle proprio banali norme comportamentali che possono aiutare un po' fino a tutta una serie di trattamenti alcuni pazienti ricorrono anche all'utilizzo di antistaminici anche associati tra loro per cercare un po' di aiutarsi soprattutto in certi frangenti e sì diciamo che come anche se abbiamo già detto in precedenza anche se non vediamo più la manifestazione cutanea in certi casi così per le cheratosiattiniche così per il prurito sono un po' ostiche e talvolta è possibile che protraendo il trattamento possano ripresentarsi grazie